Ciao sono Luca e in questo video vedremo un allenamento per aumentare la massa muscolare per i bicipiti. Sei in piedi con le gambe leggermente piegate, la zona centrale del corpo a livello muscolare è contratta per mantenere una buona postura e la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche senza inarcarsi compensando un'eventuale mancanza di forza. Seleziona quindi un carico in termini di bilanciere che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione. Le mani sul bilanciere sono ad una distanza indicativamente pari alla larghezza delle spalle. Più sono distanti fra di loro è maggiore l'apporto della porzione interna dei bicipiti, più sono vicine maggiore è l'apporto della porzione esterna. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei bicipiti espirando quando li contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. L'arco di movimento è ampio con buona enfasi sul tempo sotto tensione per i migliori risultati. Assicurati inoltre che l'articolazione delle spalle non intervenga. I pulsi sono in linea con gli avambracci o leggermente flessi e stai anche attento che la presa sul bilanciere non sia troppo stretta per evitare di coinvolgere in maniera non corretta gli avambracci. Sei in piedi con le gambe leggermente piegate, la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche e la zona centrale del corpo a livello muscolare contratta per una buona postura. Seleziona un carico in termini di bilanciere che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco senza compensare un'eventuale mancanza di forza inarcando la schiena o flettendola anteriormente. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei bicipiti espirando quando li contrai e ispirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Il bilanciere si muove all'interno di un binario immaginario verticalmente. La presa è in supinazione con le mani ad una distanza indicativamente pari alla larghezza delle spalle. I gomiti rimangono vicino al corpo spostandosi quindi all'indietro. Buona enfasi anche sul tempo sotto tensione da ottimizzare con un movimento lento e controllato per i migliori risultati. Con questi esercizi possiamo escludere l'intervento dei deltoidi. Infine assicurati che la presa non sia troppo stretta per evitare di coinvolgere in maniera non corretta gli avambracci. Sei in piedi con le gambe leggermente piegate, la zona centrale del corpo a livello muscolare è contratta per mantenere una buona postura e la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche senza inarcarsi compensando un'eventuale mancanza di forza. Seleziona quindi un carico in termini di bilanciere che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione. Le mani sul bilanciere sono ad una distanza indicativamente pari alla larghezza delle spalle. Più sono distanti fra di loro è maggiore l'apporto della porzione interna dei bicipiti, più sono vicine maggiore è l'apporto della porzione esterna. In questo caso la presa sul bilanciere è in pronazione con gli avambracci quindi che interverranno in maniera più importante rispetto al classico carle con bilanciere con la presa in supinazione. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei bicipiti espirando quando li contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. L'arco di movimento è ampio con buona enfasi sul tempo sotto tensione per i migliori risultati. Assicurati inoltre che l'articolazione delle spalle non intervenga. I pulsi sono in linea con gli avambracci e stai anche attento che la presa sul bilanciere non sia troppo stretta per evitare di coinvolgere in maniera non corretta gli avambracci. Sei in piedi con le gambe leggermente piegate, la zona centrale del corpo a livello muscolare contratta per una buona postura e la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche senza iperestendersi compensando un'eventuale mancanza di forza. Seleziona quindi un disco in termini di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento. L'impugnatura sarà a martello con gli avambracci quindi che intervengono a livello muscolare in maniera più importante rispetto all'impugnatura in supinazione. L'esecuzione consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei bicipiti espirando quando li contrai e ispirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. L'articolazione delle spalle non deve intervenire. Buona enfasi infine sul tempo sotto tensione con un movimento lento e controllato e un ampio arco per i migliori risultati. Posizionati su una panca con lo schienale completamente abbassato selezionando un manubrio in termini di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento. Appoggia il gomito sul ginocchio in questo modo evitando che l'articolazione della spalla e il deltoide anteriore possano intervenire nell'esercizio. L'impugnatura non sarà troppo stretta per evitare di coinvolgere l'avambraccio a livello muscolare in maniera troppo importante. L'esecuzione consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione del gomito supinando anche l'avambraccio con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio del bicipite espirando quando lo contrai e ispirandolo nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Buona enfasi anche sul tempo sotto tensione con un movimento lento e controllato e un ampio arco per i migliori risultati. Quando sei con il gomito flesso e l'avambraccio supinato puoi fermarti in mezzo secondo per massimizzare la contrazione a livello del bicipite. Per quanto riguarda l'aumento della massa muscolare qui trovi gli altri esercizi. Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.